Dalla nostra sede del Gallaccino, a Castel de Piano, va ora in onda il cuore non ha mai torto. Agginatevi, che principia! Signore e signori, buonasera! E ben ritrovati alla nostra consueta trasmissione fatta col cuore! Bene, oggi ci scrive Primetta Rossi dell'abbandonato, che vuole mantenere l'anonimato, e ci chiede consiglio. Mio marito, ci scrive, dopo cinquant'anni di matrimonio, non ha più le medesime attenzioni di una volta. Puntini, 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 scrive, aperta parentesi tonda. Capitemi a me, capiamo a te, capiamo a te. E da parte nostra, carissima la nostra Primetta, non potremo che mandarti un consiglio col cuore! Bene, e di questo consiglio sicuramente non avrai a pentirti. Bene, cosa gli vogliamo consigliare alla nostra Primetta? Ma io gli consiglierei, anzi, noi ti consigliamo... Mamma Andaloe! Fedi, promessi sposi, per il tuo matrimonio che non si farà. Allunga i tempi della tua felicità. Fedi, promessi sposi, e stai sicuro che il matrimonio non si farà. Aumenta la tua felicità. Bene. Allora, senti cosa mi scrive Urtimina, no, anzi, scrive Urtimina, Urtimina dalle case rosse, e ci chiede consiglia. E noi come possiamo non darti consigli, Urtimina? Sempre col cuore! Dice Urtimina, il mio fidanzato mi ha lasciato per una stanga di un metro e ottanta con le misure novanta, sessanta, novanta. Non è finita. Bionda e con gli occhi azzurri. Tutto lei. Puntini, puntini, puntini. Ora dico, dice lei, Urtimina, cabbia a ve più di me che so un metro e trentacinque, novanta, novanta, centoventi. Aiutatemi, vi prego. Aiutiamola, povera Urtimina. Cosa gli si può dire a Urtimina? Già, il nome, Urtimina. Tutto un programma. Ma non disperare, Urtimina. No, no, ma sai che cosa c'è? Eh? Che io qui vedo, qui vedo un monte di numeri, no? E allora, ma cosa, cosa possiamo dirgli con tutti questi numeri? Sì, ma giocateli! Buonasera, cari amiche. E continuate a scrivere. Sì, e non rispiamo. Dal cuore!